ciao ragazzi io sono riccardo e bentornati nel mio canale youtube e nel mio piccolo laboratorio oggi vi parlerò di questa termocamera che mi avete visto utilizzare recentemente nelle recensioni delle stampanti 3d l'ho presa sul sito 5 star tools è un sito internet che solitamente mi manda degli utensili da farvi vedere da recensire questa l'ho voluto a prendere invece per poterlo utilizzare per le stampanti 3d farvela conoscere insomma utilizzarla in generale è una termocamera che ci permette di rilevare le temperature superficiali degli oggetti e anche delle persone allora ora lo guarderemo da vicino vi lascerò ovviamente il link per poterla comprare vediamo se riesco a farmi dare anche un codice di sconto in modo da farvela pagare un pochettino di meno io ovviamente ho avuto un prezzo molto più agevolato perché c'è una collaborazione con il venditore però è un prodotto per il quale sinceramente ne vale davvero la pena l'ho provata già la possiedo da circa un mesetto ho fatto diversi test e per l'utilizzo non professionale mi sono reso conto che effettivamente va bene può essere utile per diversi ambiti per trovare per esempio cavi elettrici surriscaldati per vedere quale parte di una stanza è più o meno calda fredda eccetera insomma i campi di utilizzo sono davvero tantissimi inutile che ve li elenco però è davvero molto molto utile ora vi faccio vedere il funzionamento vi faccio vedere le caratteristiche eccetera iniziamo il marchio di questa termocamera è hti il modello è ht 0 20 di viene venduta all'interno di questa scatola in cartone con questa chiusura magnetica nell'interno troviamo questa borsetta semi rigida per poterla trasportare con questo elastico per poterla mantenere ferma è una sorta di maniglia sulla parte alta questa è la termocamera già accesa nell'impugnatura ci vanno quattro batterie stilo si apre in questo modo si inseriscono e si richiude facendolo scorrere sulla parte bassa dell'impugnatura c'è questa filettatura da poter registrare anche ad un treppiedi e c'è un laccetto per evitare che possa scivolarci per poterla accendere bisogna premere il tasto menu e per spegnerla bisogna mantenerlo premuto l'impugnatura è ricoperta da questa gomma gialla antiscivolo sulla parte frontale abbiamo il sensore a infrarossi la telecamera ed il led sulla parte alta invece se l'ingresso per la scheda micro sd perché questa termocamera ci permette sia di vedere le immagini che di salvarle su questa scheda scattando delle foto può lavorare con un range di temperatura compreso fra meno 20 e più 300 gradi ed ha una risoluzione di 32 x 32 questo è il tasso per poter scattare le foto e questo è il pannello di controllo che ci permette di agire sulle impostazioni della termocamera questo invece è il display coperto da queste alette che fungono un po da parasole la telecamera come vedete puntata su una superficie ci restituisce un'immagine a colori che rappresenta le temperature o meglio rappresenta la differenza di temperature che sono presenti sulla superficie che stiamo inquadrando è possibile avere due tipi di inquadratura una solo con lo spettro dei colori che ci riportano le temperature un'altra invece miscelata con l'immagine reale ripresa dalla telecamera infatti premendo sui tastini a destra e a sinistra possiamo avere o l'immagine perfettamente a colori oppure gradualmente mixare miscelare i due tipi di inquadratura e questo ci permette di avere quindi la possibilità di puntare perfettamente sulla superficie dopo che abbiamo stabilito quale deve essere il punto in questo caso dato che gli oggetti sui quali sto puntando la telecamera hanno super giù la stessa temperatura ovviamente non abbiamo una grande differenza dei colori però se metto la mano davanti come vedete già mi restituisce una temperatura diversa quindi l'immagine che appare sul display è completamente diversa e mi indica in rosso la parte più calda e anche se poggio la mano su questa superficie poi la tolgo sulla stessa rimarrà il colore della mia mano e la termocamera come vedete rileverà il calore presente che man mano va diminuendo ovviamente perché si raffredda in realtà va al colore che vediamo sul display a vedere con un colore o un altro la differenza di temperatura fra una superficie ed un'altra se io mettessi questo telefonino qua sopra per esempio adesso sarebbe più caldo rispetto al resto delle superfici e quindi me lo indicherebbe come superficie più calda ma se metto la mia mano davanti ovviamente prevale il calore della mia mano e il telefonino perderebbe tonalità quindi il rosso appare la temperatura più elevata adesso io farò fare un lavoro a questo telefonino in modo da poterlo sul riscaldare facendogli produrre un video quindi in questo caso gli richiediamo un lavoro al processore che sicuramente sul riscalderà lo stesso dispositivo e vedremo fra poco la differenza allora nel frattempo guardiamo il menu allora abbiamo la possibilità di entrare all'interno di un menu che ci permette di agire su diverse impostazioni questo per esempio è il menu che ci permette di cambiare il colore che vogliamo vedere sul display in base alle misurazioni premendo su select abbiamo la possibilità di variare in quel caso era su una scala di colori che vanno dal blu al verde rosso arancione bianco eccetera questa è una scala di colori che parte dal nero arriva bianco passando da blu arancione giallo eccetera poi abbiamo la tonalità che va dal bianco al nero e la tonalità che va dal nero al bianco per poi tornare insomma quelle che abbiamo già visto poco fa quindi utilizziamo questa con il verde che quella che mi piace di più e vediamo le altre funzioni abbiamo la possibilità anche di avere dei riferimenti perché la temperatura va fatta in base al tipo di superficie che dobbiamo misurare nel frattempo guardiamo pure il telefonino che come vedete si sta riscaldando molto di più rispetto a poco fa perché sta lavorando quindi adesso ci restituisce un immagine con queste parti più rosse poco fa era tutto verde allora torniamo al menu perché nel frattempo il telefonino avrebbe finito quindi avrei perso di farvi vedere questa parte quindi dicevo in base al tipo di superficie che dobbiamo misurare dal menu possiamo impostare dei valori che sono riferiti nell'ultima pagina del manuale di istruzione ma si trovano anche sul web e quindi impostando questo valore possiamo avere una misurazione molto più accurata possiamo impostare l'orario la data questo è il numero di immagini salvate nella memoria la luminosità è possibile variarla perché in esterno per esempio se non mettiamo l'illuminosità al cento per cento si vede ben poco ed è possibile diminuirla fino al 10 per cento veramente molto ridotta quindi consiglio di utilizzarla al cento per cento anche se questo richiede ovviamente un consumo di batteria sicuramente molto più elevato insomma diverse impostazioni però anche lasciandola con le impostazioni praticamente di fabbrica si riesce a utilizzare perfettamente abbiamo la possibilità quindi come abbiamo detto poco fa di scattare delle fotografie ed è possibile scattarle sia in questo modo con lo spettro di colori appare la richiesta di salvataggio con il tasto menu corrispondente alla posizione di yes la salveremmo invece premendo il tasto select in questo caso che corrisponde al no la cancelleremmo quindi salviamola in questo modo viene salvata sulla memory card è la stessa cosa se utilizziamo l'immagine miscelata quindi l'immagine termica con l'immagine ripresa dalla telecamera normale in questo caso verrà salvata con l'immagine sovrapposta quindi salviamo anche queste adesso facciamo la prova per esempio con questa pistola per colla a caldo con la telecamera termica individueremo sicuramente qual è il punto più caldo però utilizzando la visione mixata in questo caso riusciamo a decidere esattamente di quale punto vogliamo conoscere la temperatura perché in alto a sinistra cioè fare la temperatura esatta riusciamo ad inquadrare il punto esatto e vedere che in questo punto per esempio raggiunge 91 gradi cosa che non riusciremmo a fare se impostassimo la visione mixata non ci renderemmo conto esattamente di quale punto si tratta in questo punto sappiamo che abbiamo 144 gradi invece in questo modo riusciamo ad avere un'immagine molto più dettagliata però c'è un però come vedete la telecamera e il sensore infrarossi sono su due posizioni differenti quindi quando si è troppo vicini si verifica un fenomeno di parallasse perché le due immagini non corrispondono esattamente devono andare ad incrociarsi ad una determinata distanza se facciamo un inquadratura da due obiettivi che non sono posizionati esattamente allo stesso modo ed cerchiamo di inquadrare un oggetto o lo inquadriamo con questa o lo inquadriamo con questa e quindi di conseguenza non ci sarebbe un allineamento delle due immagini è una cosa inevitabile la stessa cosa che accade con i mirini le tacche di mira per esempio delle armi in quel caso quindi è necessario utilizzare assolutamente questo tipo di visione perché ci indica esattamente il punto più caldo utilizzando un solo tipo di inquadratura e la miscelazione serve proprio a questo ad individuare dove si trova il punto facendoci un'idea miscelando l'immagine quale punto si tratta con esattezza adesso vediamo le immagini che ho salvato nella memoria correndo come potete vedere abbiamo l'inquadratura di una stampante 3d il mio volto questo è il motore della mia macchina questo è un biberon questo sono io e queste sono le riprese che abbiamo fatto adesso quindi il telefonino e adesso scattiamo una foto anche alla pistola per colla a caldo che nel frattempo si sta raffreddando perché si è spenta quindi chiede di salvare dico di sì e in questo caso la troveremmo all'interno della nostra memoria erano 17 erano 16 adesso abbiamo 17 fotografie e questa è la foto che abbiamo appena scattato questa ad esempio sono delle batterie sotto carica puntando la termocamera sulle batterie vediamo che l'unica che sta riscaldando ovviamente è quella che ancora è in fase di carica le altre due hanno già raggiunto il massimo del livello di carica e quindi in questo caso l'alimentatore è caldo e può esserci utile anche per trovare eventuali sul riscaldamenti su alcuni cablaggi come in questo caso non provo chino eccessivo sul riscaldamento quindi puntando in questo modo la telecamera vediamo che la temperatura praticamente quasi uguale a quella della temperatura ambiente sulla parte bassa del display viene riportato l'orario sulla parte alta viene riportata la temperatura è ovviamente anche che il livello di carica della batteria è il riferimento dell'impostazione che abbiamo dato con i valori che abbiamo visto poco fa e sulla parte bassa a sinistra abbiamo la temperatura massima e la temperatura minima misurate e questo quindi è il funzionamento di questa termocamera un video semplicissimo avevo il piacere di farvi conoscere questo prodotto perché in tantissime vi avete chiesto informazioni vedendomela utilizzare sia per le stampanti 3d che in qualche altra occasione vi vedrete utilizzare anche quando testerò alcuni utensili per esempio abitatori eccetera per vedere quanto surriscaldano solitamente vi dicevo questo utensile sul riscaldato scotta questo temperatura ambiente un po tiepido adesso sarò in grado di dirvi esattamente quale temperatura raggiungono e soprattutto quale parte dell'utenziale si surriscalda di più è un oggetto che ho acquistato che mi piace farvi conoscere perché so che potrebbe essere utile a tanti di voi sia all'interno del laboratorio che anche per quanto riguarda l'utilizzo domestico perché spesso può capitare per esempio per gli impianti di riscaldamento si abbia necessità di trovare per esempio i tubi dove passano eccetera e con questa termocamera anche attraverso le piastrelle siamo in grado di vedere il percorso dei tubi siamo in grado anche di vedere come si diffonde il calore all'interno di una stanza quindi quale parte della parete più o meno fredda eccetera è molto versatile e sicuramente non è indispensabile però mi avete chiesto informazioni e ve la volevo fare conoscere il prezzo si aggira su per giù attorno a 180 euro ma vediamo se riesco a farvi avere un codice di sconto detto questo non mi resta che ringraziarvi di avere visto questo video fino in fondo vi invito ad iscrivervi al mio canale mettere mi piace al video se vi è piaciuto l'avete ritenuto utile cliccate sulla campanella qua giù per ricevere le notifiche dopo esservi iscritti e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti ciao da riccardo e a presto